...proprio a quel concetto di romanizzazione che è molto diffuso e che ha cambiato aspetto adeguandosi proprio all'unico politico attuale. Se la romanizzazione nel ventennio era in posizione di un modello unico romano in una società inferiore, questo è il concetto di romanizzazione che abbiamo cominciato a studiare con la storia degli studi all'università. Adesso è modificato completamente, cioè l'introduzione di un certo tipo di politica, anche la politica marxista, ha imposto prima un ribaltamento di questo concetto, cioè il contrario, tutte le popolazioni invece erano migliori, i romani non hanno fatto nulla. Adesso siamo arrivati appunto invece della nascita di una nuova identità culturale dall'incontro di questi elementi, degli elementi latini, perché poi non esiste il romano appunto, di questi elementi latini come le popolazioni che popolavano l'Italia di quell'epoca. Quindi ci sono identità culturalizzate, faccio solo un piccolo esempio. Qui noi siamo in Daunia e c'erano popolazioni daune. Esistono di alcuni villaggi che sono stati scavati e a un certo punto arrivano i salmiti. Le fortici portano notizie di guerre, conflitti. Beh, è stato scavato un villaggio in cui gli uomini sono salmiti e le donne sono dauna. Cioè la metropoli è composta, distinguiamo perfettamente dal modo di seppellire. I salmiti si sempelliscono su figli, le donne, i radichi altri. Cioè la metropoli è composta, quindi l'assoluta fusione degli elementi culturali, lo scambio delle ceramiche. Questo era soltanto, diciamo, un esempio stimolato da quello che ha detto collega. Invece quello che vorrei presentare oggi è un discorso invece di come le comunità che sono ora in semplicito. Grazie.